notiziate notizie da novate bollate garbagnate baranzate cesate limbiate lazzate mecenate mecenate no mecenate dov'è? mecenate non è una città tra l'altro cosa c'entra con gli ate però se finisce in ate è Milano a Milano quindi possiamo parlare anche di Milano? no no vale non c'è frega niente a mecenate dall'altra parte di Milano cosa succede a mecenate? non vogliamo saperlo già abbiamo detto cogliate e lazzate che sono fuori zona anche perché oggi non piace così tanto lazzate mi è rimasta nel cuore è puntata del 2024 vale auguri auguri a tutti io so che vi siamo mancate tantissimo so perché poi oggi registriamo mega puntatone mega puntatone della Befana sì vogliamo dirlo sì quindi poi devo montare io quindi sono 30 minuti ho preparatevi sai dove è andata la Befana? eh? sai dove è andata la Befana? in che senso? che è andata a trovare i pompieri di lazzate vedi perché mi piace lazzate la Befana ce l'aveva è andata a trovare i pompieri di lazzate e lo dico perché dopo solo se ascoltate tutta la puntata scopriremo tutte le vicende ce n'era da... sì la nostra nuova rubrica che chi ci ha ascoltati a Natale lo sa lo sa qual è la nostra nuova rubrica perché la nostra vecchia rubrica in realtà grande grande classico è ovviamente giungla metropolitana e siamo ancora qui con giungla metropolitana pensavamo di essere entrati in una stagione invernale il silenzio della natura invece no invece no sai perché? perché a Natale c'erano 15 gradi e la natura si è risvegliata ma Brambida l'aveva detto l'aveva detto che cazzo succede qua ora ci dobbiamo svegliare e infatti a Garbagnate i cinghiali sempre più vicini alla città crescono le segnalazioni nei comuni nord per ora non è un problema ma se proliferano non sono i lupi come pensavamo ma bensì i cinghiali negli ultimi tempi sono stati segnalati singoli cinghiali a Solaro, Cesate e a giorni fa anche a Misinto al momento queste presenze risultano solo a livello di curiosità cioè non vengono segnalati i danni ma se col tempo i cinghiali dovessero moltiplicarsi allora potrebbero sorgere grossi problemi ma lo sai perché si moltiplicano così facilmente? e trombano? te l'hanno raccontato oppure ti devo spiegare tutto? ah perché ci sono delle varietà cinghiali selvatici purtroppo sono state importate come sempre ancora? delle varietà più prolifiche più prolifiche che sono state poi dopo che si sono mischiate giustamente perché la specie è la stessa con le varietà selvatici e quindi questo ha aumentato e quindi adesso abbiamo dei cinghiali che prolificano di più quindi non sono più in equilibrio quindi praticamente di più non ci sono più gli antagonisti ah l'antagonista certo ma l'antagonista si sa che è il ristoratore l'antagonista del cinghiali è il ristoratore comunque allora volevamo fare quindi il brasato quindi praticamente in Toscana ci hanno giocato un po' con questi cinghiali e hanno detto dai noi piacciono e poi abbiamo i ristorantini adesso ci sarà infatti a Castellazzo ci sarà ci sono i ristoranti tipico cinghiali di Castellazzo vabbè ma non è finita qui si parla anche lo sai dei pappagalli pensate siamo a Natale a Milano nel provincio di Milano negli Ate e ci sono stormi di pappagalli verdi in realtà siamo in Brasile ormai come zona tropicale come latitudine è così appunto ma in realtà adesso se ne parla adesso abbiamo una notizia è uscita sui social diciamo adesso beh però è pieno è pieno e dagli anni 70 pensa che hanno iniziato ad adattarsi alle zone cittadine italiane prima nel centro Italia e poi piano piano sono venuti su stiamo parlando del parrocchetto dal collare sai come si chiama il parrocchetto dal collare pensavo parrocchetto dal collare il nome scientifico è Psittacula Crameri o Crameri chi si chiama non lo sappiamo ma che cosa succede che è una delle cento specie invasive più pericolose al mondo ma non erano scusami i gambero rosso del Madagascani infatti nelle cento c'è lo scoiattolo la tartaruga anche quelle tartarughe che non ne abbiamo ancora parlato ma sappiate che siamo pieni i gambero rosso i gambero rosso americano sì californiano ma non lo so e il parrocchetto dal collare che invece è asiatico Asia-Africa dell'area tropicali sempre con queste foto su ah che bello il parrocchetto sull'albero sì infatti non è eh no invece bisogna sparargli ma sai perché prolifica perché la gente mette le mangiatoie anche loro trombano e mette le mangiatoie per gli uccelli e loro mangiano mangiano eh certo comunque io lo riconosco dal canto sì perché sono striduli molto striduli e quindi quando passano questi qui io lo sento che arrivano eh però si pigliano ovviamente tutta la insomma cioè fanno competono con i nostri uccelli e piano piano sono competitivi i nostri uccelli sono meno competitivi e quindi niente quando li vedete è un po' come gli scoiattoli grigi che continuano comunque sui social non ne parliamo più ma sui social comunque appazzano questa roba qua bene andiamo su altre rubriche va bene ci abbiamo un sacco di rubriche sì però quella più corposa di tutte oggi è la nostra nuova rubrica di Natale un pompiere sotto l'albero esatto diciamolo sembrava ci piace esatto sì ci piacciono allora e il pompiere sotto l'albero perché? perché in questo periodo qui natalizio cioè la gente ne fa di ogni di ogni altro che chiusa dentro chiusa fuori va a sbattere e poi vabbè c'è anche gente che magari non si accorge diciamo si trattiene raccontiamo la notizia andiamo da dire ce ne sono tante quindi scegliere non è non è stato facile no ne vogliamo dire tutte no beh adesso vediamo perché poi dopo tocciamo a montare allora no vediamo un po' quello del la più bella è non risponde al telefono non risponde al telefono e al citofono arrivano i pompieri poi si scopre che si scopre che puntini puntini mistero allora prima di Natale intorno alle 15 allarme in via Mazzini bollate esatto un 45 anni tutto il giorno non aveva risposto alle telefonate della nonna ok allora adesso già mettiamo già mettiamo in ordine le cose questo ha 45 anni e la nonna e ha una nonna che lo chiama numerose volte è evidente che lui non voleva rispondere alla nonna perché poi vabbè la nonna comunque si preoccupa ma nemmeno agli agenti l'uomo rispondeva o apriva la porta a quel punto si è pensato al peggio e solo così sono stati richiesti i vigili del fuoco a titolo precauzionale anche l'ambulanza ma cosa è successo? cosa è successo? saliti al terzo piano non riuscivano ad entrare dalla finestra a quel punto la sorpresa l'uomo era seduto in bagno col cellulare in mano ed era reticente le domande postegli dai soccorritori sembrava in stato confusionale e quindi sono arrivati questi pompieri e cosa è successo? niente lui stava giocando ai videogiochi e... no... dove? è in bagno era seduto in bagno col cellulare in mano ed era reticente le domande comunque ha rifiutato anche il trasporto in ospedale e quindi cosa è successo? non può neanche cagare in pace in questo mondo c'è chi chiamano i pompieri chi chiamano l'ambulanza vabbè comunque il signore sembra che sia bene dopo quante ore scattano questi escono? allora questa è una domanda che noi porremo al nostro ospite al nostro ospite che non si sa se riusciamo ad averlo ma potremmo potremmo riuscirci e... no però insomma di notizie sui pompieri ce n'è a bizzeffe sì allora abbiamo l'anziana è in casa ma non può rispondere la figlia la salva facendo intervenire i pompieri poi c'è cade in casa donna rimane bloccata arrivano i vigili del fuoco con l'autoscala quindi c'è un sacco di lavoro tutto questo solo a bollati sì poi bloccato in casa paura il primo gennaio sono dovuti intervenire i pompieri con l'autoscala e i carabinieri per convincerlo al ricovero beh insomma poi c'è il bilancio vogliamo mettere? parliamo del bilancio il bilancio è una grande opera di raccolta informazioni e praticamente cosa ha fatto? c'è uno schema un diagramma con gli interventi dei vigili del fuoco mese per mese quindi anche il notiziero si è accorto che insomma i vigili del fuoco hanno un bel da fare e luglio col bene che ti voglio è il mese da incubo 136 interventi contro altri diciamo 59 agosto 58 seguito da settembre con 66 ottobre 59 agosto 58 come mai tanti interventi in luglio come mai e ci sono stati qui dice un'infinità di interventi per gestire ah beh c'è stata le tempeste eh sì le tempeste sì gli alberi caduti comunque la prima città è Garbaniate è in cima alla lista con ben 163 interventi sui 642 il secondo comune Bollate Bollate va bene ce ne erano 4 solo sta settimana poi dopo c'è su tutti i ate cavolo terza o non un ate invece quarta cesate poi baranzate e niente novate non c'è novate non c'è lainate c'è però però dice che la tipologia prevalente di richiesta di soccorso è quella degli interventi vari ok in cui ricadono l'Italia pianta le fughe di gas apertura e porte per questo l'avevamo già deciso apertura e porte è incredibile assistenze generiche ovvero quei piccoli grandi problemi che possono accadere a ciascuno di noi e mi viene da dire che tu puoi chiamare anche delle altre persone delle altre persone amici tipo il fabbro tua nonna vabbè e poi ci sono successivamente incendi però ascolta gli incendi che dovrebbe essere diciamo la causa sono 148 chiamate contro le 266 degli interventi vari seguono le chiamate per soccorso a persona quelli per danni d'acqua poi dissesto e interventi su incidenti stradali e comunque anche a Garbagnate c'è la notizia bloccati in casa la mattina di Natale vuoi non essere bloccato in casa la mattina di Natale ma alla fine com'è finita? è finita che i vigili del fuoco hanno fatto ritorno in sede con i ringraziamenti della famiglia gli avranno dato un regalo eh meno un panettone eh no e niente comunque in 5 minuti sono giunti i pompieri c'è 5 minuti ci hanno messo a giungere quelli di Ro sono giunti a Garbagnate subito con l'autoscala per entrare in appartamento dal balcone perché si erano chiusi erano rimasti chiusi dentro è grave perché la porta di casa non si apre come spesso succede capito dopodiché c'è io lo capisco una lamella della serratura blindata si deteriora si rompe la porta si blocca sono rimasti chiusi dentro ho capito non è un'emergenza non sei neanche rimasto chiuso fuori non c'è neanche il cane dentro cioè non c'era niente non c'era il cane c'è niente devi chiamare il fabbro e paghi 200 euro perché è Natale questo è il punto dici che ci sono quelli che a Natale vengono eh sì la paghi l'uscita però vabbè abbiamo anche un nuovatese eroe un pompiere eroe anche un pompiere eroe diciamo belle notizie rubrica belle notizie già no no sempre il pompiere sotto l'albero Ivano Ivano pompiere eroe Ivano Ghidoni è un vigile del fuoco 45 nel servizio che ha salvato insieme a un'altra persona un Deborah Palmisano un medico di base di Garbagnate che hanno salvato due vite sì sul lago sul lago sono buttato cioè buttato sì sì perché erano lì per caso sì erano lì per caso e hanno visto l'incidente si sono gettati e hanno salvato e sì ma guarda che culo tra l'altro posso dirlo eh sì perché cioè tu fai un incidente e di fianco a te ci sono un pompiere e una rianimatrice un medico rianimatore quindi proprio che culo comunque lui qui se lo contendono perché questo questo articolo è su le pagine di Garbagnate ma in realtà in realtà lui è di Cesate vive a Cesate ma è di Novate originario e quindi è conteso quindi su tutte le pagine sì lo troviamo dappertutto anche in prima pagina anche prima pagina diciamolo del notiziario però è conteso quindi vive a Cesate ma è di Novate sì tutti poi e se lo contendono questo di Novate dice però quando è entrato nei vigili del fuoco era ancora Novatese quindi per Novate queste radici sono sicuramente un punto di merito cioè perché capito secondo questo articolo è merito del fatto che tu sei Novatese che sei così non credi gli Ate vedi questi Ate questo campanilise tu di che Ate sei non l'abbiamo mai detto eh Vale io non sono non sei di un Ate non so non si può dire ma no, sei Novate anche te non sono in un Ate ma sì siamo tutti Novatesi o no sì beh ma contendiamoci eh beh io frequento Novate da tantissimo da tantissimo tempo quindi va bene poi abbiamo la rubrica compieri finiti rubrica mistero la notte di Natale cosa succede la notte di Natale? la notte di Natale crolla le lapidi al cimitero sì e tu dici ma come ma come mai è uno spettacolo davvero brutto inizia così l'articolo se non addirittura sconcertante quello che si è presentato la mattina di Natale al cimitero di Via Repubblica di Bollate in una delle aree più vecchie del Camposanto beh meno male che era la più vecchia perché sa in cui sono custoditi colombari ossari di persone bollatesi decedute anche cento anni fa nella notte tra il 24 e il 25 niente c'è stato un crollo di alcune lapidi che comprivano i loculi e una grossa lapide si è letteralmente schiantata secondo me c'era qualcuno che voleva uscire te lo ricordi che c'era il mistero sempre a Bollate che c'era il mistero c'era una puntata che aveva fatto il mistero che le lapidi spostate e qui cadono la cassina nuova era eh vedi qui cadono sì ma c'è qualcosa infatti qua dice ah lo dice questa situazione si è verificata accanto all'ossario numero 3 posto sulla destra del sacrario dedicato ai caduti aiuto sto manco quindi c'è nel senso già c'è un segno c'è il numero 3 cosa vorrà dire è la trinità ce ne sono altre quindi c'è questo mistero niente quindi insomma torniamo a chiederci che cosa ha fatto crollare le lapidi proprio la notte di Natale cioè la domanda non l'ho fatta io era nell'articolo sì sì no perché poi la gente dice che ce la inventiamo invece no no è proprio scritto infatti non inventiamo niente noi facciamo rassegna stampa tra social e in questo caso il notiziario di questa settimana che potete comprare e leggere benissimo anche voi però una risposta al momento non c'è ma non si esclude l'ipotesi che qualche forte botto fatto esplodere nel decente parco centrale abbia causato vibrazioni tali da causare il distacco di mano non si sa non si sa un po' di dubbi poi c'è un altro mistero c'è un mistero dei quadri c'è il mistero dei quadri parliamo del mistero dei quadri perché è veramente interessante questo è Garbagnate il giallo dei quadri rubati e ricomparsi sono ricomparsi allora due dipinti del settecento nel duemila e dodici sono stati rubati e poi sono riapparsi al mercatino di Garbagnate ecco dove sono riapparsi al mercatino mercatino di Garbagnate vai a vendere trentamina euro di quadri del settecento cioè sembrava dal titolo che questi quadri alla fine li avessero recuperati invece no sono ricomparsi per essere venduti la vicenda ha avuto inizio nel duemila e dodici quando una coppia di ricchi coniugi che possiedono un'antica villa a Castellanza in provincia di Varese denunciarono la scomparsa di due quadri del settecento dell'artista francese Jean-Baptiste Lallemonde e undici anni dopo nel 2023 sul sito di un noto antiquario è comparso un annuncio venivano venduti a duemila e cinquecento l'euro l'uno anche se il valore reale è quindici mila euro cioè questi sono dei pazzi ma no cioè li rubi e poi ci fai non è chiaro infatti dice sarà vero ma figurati resta infatti il dubbio come mai sono stati messi in vendita a un valore molto più basso della stima reale vabbè ma no qua c'è giallo giallo se qualcuno vabbè niente rubrica a questo punto bisogna andare su sulle belle notizie belle notizie vabbè c'è la bella notizia di prima l'abbiamo data i eroi quella dei due eroi ah i due eroi e poi c'è la devo dare la notizia della classe di mio figlio di tuo figlio certo facciamo certo alla terza della scuola Montessori di Novata vince il concorso 2030 Artbox ragazzi hanno vinto mille euro e una gita dove vogliono che bello bello mille euro ovviamente e anno fa hanno partecipato a questo concorso 2030 Artbox un'iniziativa realizzata in collaborazione con la banca di Asti era aperto a tutte le scuole primarie del nord Italia praticamente e rivolto alle allunie scuole primarie niente di tutte le regioni del nord Italia e quindi dovevi fare un'opera di Orma Box lo sapevi cos'è? cos'è? una tecnica di rappresentazione visiva che consente con la semplice sovrapposizione in sequenza di più disegni o d'oggetti di creare un piccolo mondo si chiama questa tecnica quindi hanno hanno fatto questa loro opera che adesso è esposta alla banca di Asti ma dai si sono primi i primi c'erano un premio solo come primo premio hanno vinto la tartare la scuola Montessori di Novate pensa a te sui temi dell'agenda 2030 dell'ONU ah bello si bello bello sulla sostenibilità e niente io passerei al meteo no? a questo punto passerei al meteo ma prima del meteo diamo una notizia shock di meteo cosa è successo? nuvole con i colori dell'arcobaleno nuvole iridescenti ma cosa è successo? cosa succede nella nostra zona queste nuvole con l'inquinamento probabilmente la chiederemo al nostro al nostro immancabile dottor Brambilla del meteo che ci spiegherà è ancora con noi buongiorno dottor Brambilla buongiorno buon anno buongiorno Vale buongiorno a tutti gli ascoltatori allora noi non ci vediamo non ci sentiamo dall'ultima settimana del 2023 e adesso siamo ormai entrati nell'inverno finalmente no? perché noi quando ci siamo sentiti l'ultima volta c'erano 15 gradi dottor Brambilla sì 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 mi ricordo bene che c'era un clima abbastanza mite per il periodo adesso le temperature quelle notturne sono comunque sopra media perché abbiamo temperature intorno 5-6 gradi quindi sono abbondantemente sopra media ah ecco perché di notte c'ho le scalmane allora non è la meno pausa no non è la meno pausa è il fatto che sono temperature tipiche di novembre quindi siamo a gennaio ma abbiamo ancora temperature di novembre invece le massime sono abbastanza linea al periodo ma solo perché i cieli sono nuvolosi abbiamo avuto precipitazioni se ci fosse sole avremmo sicuramente anche lì temperature intorno ai 3-4 gradi oltre la media ah è certo stiamo stiamo vivendo un clima cedo invernale ma non ancora non ancora non ancora del tutto invernale arriva o non arriva il freddo dica solo questo allora quello che hanno strillato perché la parola giusta è strillare grandi siti meteo e non arriverà nulla di quello che hanno detto i modelli hanno completamente ridimensionato la cosa e quindi avremo solo solo un assaggio invernale ma veramente minimo in una stagione che non è ancora per nulla partita e quindi domani posso andare in bicicletta? sì la settimana inizierà lunedì e martedì con nuvole senza precipitazioni temperature come dicevo prima nelle minime ancora diciamo elevate per il periodo perché comunque saranno minime intorno ai 4-5 gradi e massime intorno agli 7-8 gradi poi mercoledì dovrebbe arrivare appunto quest'aria fredda e dovrebbe abbassare le temperature di qualche grado diciamo 2-3 gradi nulla nulla di più quindi le minime dovrebbero scendere intorno come dicevo per qualche giorno intorno a quelle che sono le medie stagionali e le massime intorno sempre 6-7 gradi e niente però questo volevamo chiederle siccome questo in questi giorni di festa c'è stato un fenomeno meteorologico che ha scatenato i social network di tutti in qua della zona sicuramente però penso di tutto il nord nord ovest perché c'è stato un fenomeno delle nuvole iridescenti cioè queste nuvole che avevano appunto i colori dell'arcobaleno all'interno ci rassicuri non sono non sono chimiche cioè non hanno qualche no sono le nuvole degli unicorni no neanche quello anche ai bambini si potrebbe dire così sicuramente però comunque è un fenomeno contemplato in tutti i manuali di meteorologia è raro ma è raro in un certo in un certo posto però 3-4 anni fa si era verificato nella zona del Ferrarese e qualche anno prima anche nella zona del Messinese che cosa è dovuto? ma è dovuto essenzialmente a una concomitanza di fattori che come dicevo prima è abbastanza rara nel senso che ci deve essere un cielo molto limpido portato d'aria in questo caso del Resson che era arrivato con temperature quindi i primi strati dell'atmosfera è abbastanza tiepide mentre negli strati intorno ai 10-15 km temperature sono sotto zero per via di questi venti che sono sopra sono freddi mentre diventano caldi man mano che si abbassa di quota questo fa sì che si formano dei piccoli cristallini di ghiaccio ma veramente di qualche neanche millimetro di micron stiamo parlando sono veramente di dimensioni infinitesimali e con una determinata poi combinazione di inclinazione dei raggi solari in questo caso le inclinazioni dei raggi solari si verificano soprattutto all'alba e al tramonto quando i raggi solari sono un pochettino non sono dritti perpendicolari ma sono molto obliqui che fa che proietta le luci della luce della corolla noi le vediamo con le luci dell'arco valeno che sono molto belle sono anche molto difficili da fotografare perché i nostri telefoni non riescono a riprodurre i colori ancora i colori che noi vediamo con l'occhio umano quindi questi colori particolari se uno le fotografava col telefono venivano più brutte diciamo di quelle infatti abbiamo visto bisognava vedere delle macchine professionali però insomma ci ha fatto sognare che fenomeni fantastici bene va bene allora niente vediamo cosa succederà settimana prossima nella speranza che arrivi un po' l'inverno e noi ci salutiamo e ci sentiamo presto un saluto a tutti e buon anno ancora grazie anche a lei arrivederci comunque la maggior parte delle foto che c'erano sui social facevano vedere semplicemente una nuvola arancione perché era difficilissimo fotografarla quindi e quindi dicevano guardate cosa ho visto oggi e non si vedeva niente una delle foto sembra un tappeto volante cioè non erano colorate non erano non ne ha colorate nessuno esatto non si sa mai piogge acide le scie chimiche le scie chimiche e qui scatta l'etrologia certo il complottismo complottismo eh non abbiamo una rubrica complottismo però no dovremmo farla avevamo detto che c'era una rubrica polemica se volete mandarci le vostre le vostre polemiche quando l'abbiamo detto sì la rubrica polemica figurati con tutto quello che succederà novate ma passiamo agli eventi rubrica eventi rubrica eventi che cosa c'è di eventi dopo la gente è stanca dopo la befana no dici no no allora sicuramente bisogna dire l'evento insomma i laboratori che iniziano al circolo allora al circolo iniziano domenica 14 di gennaio verranno presentati al circolo lo scordinamento artistico un ciclo di laboratori artistici aperto a tutti in particolare a persone che hanno o pensano di avere difficoltà di socializzazione con un gruppo di artisti che farà che terrà questi laboratori tutte le domeniche no due domeniche al mese dalle 15 alle 17 a partire dal 28 gennaio il 14 verranno però presentate al pubblico e con tutto il ciclo di laboratori che verranno artisti di vario tipo dai cantanti al teatro varie tipologie alla pittura allo yoga bello bello vero invece a Garbagnate dal 15 gennaio ritornerà il corso di fumetti per ragazzi il comune di Garbagnate lancia un appello ai giovani scatena la tua creatività dai corpo alla tua passione torna il corso di fumetti bello rivolta ai ragazzi dai 12 ai 18 anni 18 lezioni a partire dal 15 gennaio quindi se volete iscrivervi dovete chiamare in biblioteca a Garbagnate poi cosa abbiamo niente quindi la gente è stanca dopo Natale la Befanà non ha organizzato tanti eventi bisogna cominciare a lavorare lavorare produrre produrre no c'è c'è in realtà la biblioteca di Novate c'è la lettura delle storie e sabato 13 gennaio alle ore 10.30 in Villa Venino a Novate Milanese coccole storie storie per coccolarsi sul divano nel lettone mentre fuori fa freddo lettura ad alta voce per bambini dai 18 ai 36 mesi e poi invece il venerdì 12 gennaio alle ore 17 leggiamo insieme sempre in Villa Venino il super lettore e c'è praticamente il ritrovo allora intanto bisogna ricordiamo a tutti che c'era il concorso 1,2,3 libro per il grande lettore il concorso grande lettore indetto dalla biblioteca di Novate che praticamente chiude con il 12 gennaio alle 17 per l'ultima lettura dei libri che possono essere votati dai bambini che ascoltano e poi c'è la premiazione la premiazione sabato 10 febbraio sarà e quindi fino al 10 febbraio si potrà andare a prendere ancora questi libri in biblioteca i libri del super lettore e chi legge di più vince è un premio noi lo stiamo facendo siamo tre e quanto bisogna leggerne? un po' vabbè poi dopo secondo me premiamo tutti l'anno scorso hanno premiato un po' tutti vabbè niente allora la puntata di oggi è stata una puntatona di inizio anno siamo arrivati in 2024 ci avresti mai creduto? eh guarda no infatti sto facendo fatica però vabbè siamo arrivati anche a mille ascolti davvero? la metà è la Vale che li ascolta cinque volte non li conta come non li conta? no li conta una volta sola dallo stesso momento ah sì? ah vabbè meno male siete scemo ma vi li ascolti tra tutte le puntate possiamo dirlo e poi ci abbiamo gli ascoltatori quelli accaniti sì che ci chiamano per dire ma come mai non siete ancora in onda? sì ho già sentito tre persone e mi hanno detto non ce l'avete ancora fatta una puntata siamo qui siamo qui la Vale poi tra l'altro riposarsi zero oggi tutto il giorno che dico Vale allora registriamo vabbè comunque niente torniamo quest'anno quest'anno cercheremo di stupirvi con le nostre nuove rubriche ma questa la consideriamo la terza stagione? potremmo sì lanciare la stagione bisesta lo sappiamo che abbiamo iniziato l'anno bisestile lo sappiamo sì lo sappiamo sappiamo cosa si dice l'anno bisesta sì appunto dobbiamo per forza fare la stagione bisesta questa è la stagione è la terza stagione è la terza stagione e quante ne abbiamo fatte della seconda? non lo so sai che tredici credo? va bene Vale allora ci sicuramente ci vediamo ci sentiamo settimana prossima giusto? sì sicuramente settimana prossima io esorto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a mandarci i loro vocali o le loro vogliamo fare la rubrica la rubrica ascoltatori e ascoltatrici mandateci i vostri contenuti noi li mandiamo noi li mandiamo poi in onda beh li abbiamo mandati alcuni novate podcast love chiocciola gmail.com fateci sentire la vostra voce vi aspettiamo e mi raccomando mettete la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che esce una puntata nuova comunque sì su Spotify Spreaker YouTube principalmente e poi ci potete mettiamo sempre i nostri link sul nostro Instagram e vai dai vale allora alla prossima ciao ciao